Per la precisione, entriamo proprio nel tecnico. Cosa avete insegnato a queste ragazze così interessate a questo percorso formativo? Allora, innanzitutto, diciamo, il mio compito è stato quello proprio di introdurre le ragazze nel cantiere. A parte la tecnica molto difficile, loro hanno veramente capito la difficoltà del cantiere e questo lo ha spiegato pure benissimo precedentemente la professoressa, perché in genere il restauratore viene sempre fatto vedere col camice, col pennellino, ma il cantiere in realtà è tutta altra esperienza, perché ci sono tantissimi fattori che poi incidono proprio sulla persona. Loro, le ragazze, le ho fatte proprio salire su una volta, casa Turrita a Presicce, dove la volta era stata completamente ricoperta da più strati di calce e al di sotto, dopo aver fatto degli strati, dei saggi strati grafici, avevamo visto che c'era una decorazione. Quindi bisognava piano piano, veramente con tanta pazienza, con molta delicatezza, attraverso l'ausilio proprio di un bisturi con una lama molto affilata, bisognava piano piano rimuovere questi strati sovramessi per recuperare il dipinto originale. Quindi le ragazze hanno proprio visto e vissuto da vicino questa esperienza. È stato un lavoro pure abbastanza duro. Mi rendo conto che come esperienza è veramente difficile, perché in quel momento c'era questa possibilità e quindi l'abbiamo sfruttata. Poi ovviamente gli ho un po' spiegato tutte le varie problematiche della nostra pietra leccese, che insomma, come sapete, è una pietra molto delicata, quindi facilmente si degrada. Siamo andati in giro nel centro storico di Lecce per far vedere questi monumenti che diciamo ancora tutt'oggi hanno bisogno di restauro. Quindi piano piano gli ho spiegato tutta una serie di problemi e poi abbiamo anche fatto delle prove in laboratorio qui a scuola. Cioè gli ho fatto vedere come magari si compone una malta, come viene stuccata una fessura, come viene sigillato un concio, come magari possono essere attaccate due pietre tramite un'imperneazione. Quindi anche se in maniera limitata, è ovvio perché non è che si può imparare tutto in pochi giorni. Però ho visto le ragazze molto contente, anzi addirittura c'è qualcuna che ha detto ecco questo è il mio mestiere, quello che vorrò fare da grande. Quindi questa è stata una cosa ovviamente gratificante anche per noi docenti. e niente spero che veramente possano proseguire.